Quello effettivamente è tosta, io personalmente mi alleno due ore e mezza la mattina in acqua e due ore e mezza al pomeriggio in acqua, va fatto comunque il doppio, devo fare due allenamenti in acqua al giorno, in più c'è tutta la parte a secco che varia, diciamo se la palestra è un'ora e mezza di palestra, se no sono comunque esercizi di addominali o stretching che comunque impiegano un po' di tempo e quindi tra una cosa e l'altra sarò sul bordoasco in piscina 6-7 ore al giorno, dipende da... Con distanze che quantifichiamo come? Distanze sono... Non so se sei pronti No, sono intorno ai 18 chilometri al giorno Grazie 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 Grazie